I contenuti del futuro dell'informazione statistica sulle imprese partiranno dall'esperienza che abbiamo acquisito con questo nuovo censimento, nuovo anche in termini di progettazione, di metodi e di realizzazione basata sui dati amministrativi ma anche con il supporto di un'indagine campionaria che è fortemente dedicata a capire le strategie delle imprese per la competitività che poi è il tema principale della crescita dell'economia italiana o se per meglio dire della rallentata crescita dell'economia italiana. Da questo punto di vista il censimento ci ha insegnato alcune cose, primo i dati amministrativi hanno un sacco di informazioni che consentono di risparmiare soldi pubblici e di dare meno fastidio alle imprese con modelli di rilevazione e tuttavia devono essere curate perché ci sono anche errori nei dati amministrativi e quindi bisogna in qualche modo curare l'aspetto della qualità dei dati amministrativi e inoltre sicuramente bisogna completare le informazioni che stanno dentro ai dati amministrativi, non bastano per capire aspetti di qualità come quelli che hanno caratterizzato il censimento. Ne consegue che nei prossimi anni di fatto noi potremo fare già un censimento continuo delle imprese, abbiamo progettato e pianificato una serie di indagini campionarie a rotazione su temi qualitativi di approfondimento e questo ci consentirà quindi di mantenere l'offerta informativa statistica fortemente basata sulla tradizione che ormai caratterizza il censimento generale delle imprese in Italia.